Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche questo fine settimana nel delicato passaggio della campagna da zona gialla a zona arancione il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus. In totale tra venerdì e domenica scorsi sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.587 persone e 216 attività commerciali, complessivamente 83 le sanzioni irrogate, comprese quelle relative a situazioni illecite e tipicamente di interesse delle fiamme gialle. Il potenziamento dei controlli è riguardato soprattutto Napoli. Più in dettaglio il gruppo pronto impiego, anche con pattuglie piedate, oltre ad evitare assembramenti, ha sanzionato sul lungomare cittadini sprovvisti di mascherina, mentre la stazione metropolitana di Piscinola a piazza Cavour, a piazza Bellini e nel quartiere Ponticelli ha sequestrato diversi grammi di ascice e cocaina. Il secondo gruppo all'esterno dell'area portuale ha sorpreso in piena notte in via Marina e via Cristoforo Colombo 27 persone, tra cui un minore, provenienti dalle città della provincia, che erano state a Mercellina e in altre aree della Movida a trascorrere il sabato, tutte sanzionate, tre di esse erano recidive. La compagnia di Torre del Greco ha denunciato per minaccia pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per violazione anti-Covid, un 54enne irriducibile negazionista, trovato sulla via litorale senza dispositivo individuale di protezione. La compagnia di Giuliano in Campania, al termine di un pedinamento, ha tratto in arresto a Mugnano di Napoli un 51enne sequestrando in un box nella sua disponibilità quasi 23 kg di sigarette di contrabbando. La compagnia di Castellamare di Stabia ha accertato che presso l'Internet Point veniva svolta attività di raccolta a scommesse senza licenza di pubblica sicurezza e senza l'esposizione della tabella dei giochi proibiti, denunciato un responsabile che è stato sanzionato anche per il formarsi di assembramenti con la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni. Infine il gruppo pronto impiego Napoli si è reso protagonista anche di un episodio conclusosi a lieto fine. Infatti, mentre una pattuglia di baschi verdi transitava in piazza Trieste Trento, è stata alertata da una giovane che aveva perso in via Chiaia il proprio figlio di sette anni. I finanzieri hanno immediatamente avviato le ricerche e dopo aversi tacciato piazza del Pioviscito, via Filangeri e la stessa via Chiaia, all'altezza di piazza dei Martiri, sono riusciti a notare tra la folla un bambino solo e disorientato, corrispondente alla descrizione. Il piccolo è stato quindi riconsegnato ai genitori, nel frattempo avvisati tramite sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in meno di un'ora e mezza.